Iper Bimbo a Cava dei Tireni, in via 25 Luglio numero 263, è il megastore specializzato in prodotti per l'infanzia, nato per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, dai prodotti alimentari all'abbigliamento, dai giocattoli ai mobili per la prima cameretta, con una vasta scelta di passeggini ed accessori. Non perdere le offerte che si rinnovano continuamente, vieni a trovarci, ti aspettiamo!